Istologia, lezione 24 In questa lezione analizzeremo le caratteristiche dei connettivi propriamente detti Nelle scorse lezioni abbiamo analizzato quali possono essere i componenti di un connettivo propriamente detto o in generale di un tessuto connettivo quindi abbiamo visto sia la sostanza intercellulare sia le cellule che fanno parte di un tessuto connettivo In questa lezione, dopo aver studiato i diversi elementi nello specifico riusciremo a classificare il tessuto connettivo propriamente detto a seconda degli elementi che sono in esso contenuti Il tessuto connettivo propriamente detto si classifica in base al tipo di fibre in base alla quantità di fibre rispetto alla sostanza fondamentale amorfa e in base al tipo di cellule che sono presenti in questo tessuto Il tessuto connettivo propriamente detto si può classificare essenzialmente in due varianti connettivo propriamente detto lasso e propriamente detto denso A loro volta il connettivo denso e il connettivo lasso si possono classificare il lasso in tessuto connettivo lasso fibrillare, adiposo, mucoso e reticolare e il denso in fibroso ed elastico Cominciamo ad analizzare il connettivo lasso Il connettivo propriamente detto lasso ha una caratteristica importante Nel connettivo lasso la componente amorfa, ovvero la sostanza fondamentale amorfa è predominante rispetto alla componente fibrillare, quindi tutte le fibre che abbiamo studiato Questo dà al connettivo lasso un aspetto meno concentrato Cioè, nello stesso spazio, nelle stesse dimensioni di spazio sono presenti un minor numero di fibrille e un maggior numero di sostanze intercellulare amorfa Quindi è come se ci fosse una concentrazione minore di queste fibre e le fibre, tra di loro, sono più distaccate, più lontane Questo dà appunto un aspetto lasso Il tessuto connettivo lasso può essere di quattro tipi Il connettivo lasso fibrillare presenta una componente fibrillare costituita da collagene di tipo 1 Questo collagene di tipo 1 è caratterizzato quindi da queste fibre più o meno ondulate che sono, diciamo, in cui sono immerse diverse cellule Questo tipo di connettivo lasso si trova nella lamina propria di diverse mucose e principalmente si trova a livello dell'ipoderma e delle tonache avventizie Poi c'è il tessuto connettivo lasso mucoso in cui la sostanza fondamentale amorfa è formata principalmente da acido ialluronico La presenza dell'acido ialluronico conferisce un aspetto che è quasi totalmente bianco ed è un tessuto che presenta poche cellule rispetto al tessuto fibrillare Quindi, sebbene i due tessuti potrebbero essere scambiati quello fibrillare e quello mucoso le differenze stanno nel fatto che nel mucoso ci sono meno cellule e nel complesso il tessuto assume una colorazione biancastra Invece, nel caso del fibrillare, sono evidenti delle fibre e un maggior numero di cellule Quello mucoso presenta inoltre dei fibroblasti con la classica forma stellata Poi c'è il connettivo reticolare che è caratterizzato proprio dalla presenza di queste fibre reticolari che sono evidenziabili con delle colorazioni specifiche Le fibre reticolari si trovano a formare l'endomisio e l'endonevrio Poi c'è il tessuto adiposo nella variante bianco e bruno dove il bruno è più vascolarizzato rispetto al bianco Le caratteristiche di questo tessuto le abbiamo già descritte nelle scorse lezioni Il tessuto adiposo bianco si trova a livello del mediastino e dell'ipoderma mentre quello bruno si trova più concentrato nel feto e nei neonati Passiamo ora al tessuto connettivo propriamente detto denso Il connettivo denso è presente in due varianti connettivo denso fibroso e connettivo denso elastico Il connettivo denso è caratterizzato da una componente fibrillare preponderante rispetto alla componente amorfa Quindi sarà un tessuto pieno di fibre quindi della componente fibrillare con poca sostanza fondamentale amorfa e poche cellule Quello che si potrà osservare sarà un tessuto che è ricco di contenuti ricco di fibre dove le fibre sono in numero maggiore mentre la sostanza che dovrebbe distanziarle è molto minore quindi si ha un tessuto che ha proprio una densità maggiore per il numero di fibre che appunto è aumentato Abbiamo detto che il connettivo denso è presente in due varianti Analizziamo innanzitutto il connettivo denso fibroso Nel tessuto connettivo denso fibroso la componente fibrillare è costituita da collagene di tipo 1 che ha la caratteristica di essere osservabile alla microscopia come delle fibre non molto ondulate Questo tipo di tessuto fibroso può essere classificato in tessuto regolare o a fasci paralleli o tessuto irregolare o a fasci intrecciati Quello a fasci paralleli è costituito da fibre collagene disposte in maniera parallela e ordinata Si tratta di tutte quelle fibre, di tutti quei tessuti che sono sottoposti a un forte stress meccanico Infatti questo tipo di tessuto fibroso si trova ad esempio nei tendini quelle strutture che collegano i muscoli alle ossa Il connettivo fibroso a fasci intrecciati invece presenta dei fasci che sono uniti in maniera disordinata Cioè le fibre collagene si vanno a disporre in maniera intrecciata tra loro E si tratta di un connettivo che si trova nel derma e nel periostio Il periostio è una sottile membrana che riveste appunto le ossa L'aspetto che possiamo notare alla microscopia è proprio l'aspetto di queste fibre che sono intrecciate e che decorrono in maniera abbastanza ondulata Passiamo al connettivo denso elastico Il connettivo denso elastico è composto da una componente fibrillare formato da fibre elastiche Queste fibre che abbiamo già analizzato nelle scorse lezioni hanno la caratteristica di essere più ondulate quindi hanno un livello di ondulazione maggiore rispetto alle fibre collagene ad esempio il collagene di tipo 1 Per questo quindi è possibile distinguere questi due tipi di fibre Il tessuto denso elastico lo possiamo trovare a rivestire le pareti delle arterie dove c'è bisogno quindi di una maggiore elasticità a causa del flusso sanguigno